Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale. Oggi mi avete chiesto di mostrarvi una routine per gli arti inferiore, per andare a colpire le gambe, i glutei con semplici esercizi o a corpo libero o con l'utilizzo di due manubri. Bene, vi ho selezionato anche in questo caso quattro esercizi da fare in successione, quindi una forma di quadri set e lo potete andare a mettere in pratica comodamente anche a casa. Se non avete i manubri va benissimo metterlo in pratica con due bottiglie che ci sta come zavorra, no? Possiamo lavorare in questo caso se siete agli inizi con 10 ripetizioni, se siete già più forti anche con 15 ripetizioni a parità di carico, quindi un lavoro anche più metabolico. Quindi primo esercizio che andiamo a fare, attenzione, andiamo a fare il nostro caro amico front squat, quindi primo esercizio andiamo a fare questo. E di questo esercizio, giù bene e su bene, giù bene e su bene, mi fate 10 ripetizioni oppure 15. Secondo esercizio andiamo a fare degli affondi alternate, sapete che adoro gli esercizi veri, quindi non vi metto a mettere gli slancettini che sinceramente non ho mai messo in vita in un programma e non me li metterò mai adesso e anche adesso. Quindi affondi, quindi 10 ripetizioni di qua per lato, quindi impegnativo, quindi 10 per lato in questo modo, quindi o 10 oppure se siete più forti, 15. Secondo, anzi terzo esercizio andiamo per lavorare bene anche con la muscolatura interno ed esterno coscia, quindi andiamo a fare degli affondi laterali, quindi potete tenere anche i manubri all'interno, mi venite giù in questo modo e poi di qua. E poi io ho il muro ma riesco a farlo e poi di qua, anche in questo caso 10 per lato. Terminiamo la nostra serie di esercizi con un goblet squat perché arriverete alla fine e sarete stanche. Quindi da questa posizione, giù, bene, accosciata completa e poi su, giù bene e poi su. Bene, di questo circuito terminato. Mi fate un recupero di 2 minuti, pausa e andiamo a farlo anche 5 volte. Provate a farlo, questo allenamento vi porterà via qui 15 minuti, ma sono sicuro che vi darà grandi soddisfazioni ed è un lavoro semplice ma efficace che potete andare a fare ovunque. A me piace dare delle cose da fare semplici, efficaci, da fare veramente in qualsiasi situazione e questo è una di quelle situazioni. Mi raccomando, provatelo, fatemi sapere qua sotto nei commenti come è andata. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com Ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito! Grazie a tutti!